Una patologia molto rara ha fatto diventare la pelle di Melanie Bradley e della figlia Rebecca simile a quella dei pesci. La storia è veramente incredibile e pensate che la figlia ha solo 5 anni di età. Entrambe in pratica soffrono di ittiosi, la quale malattia porta alla pelle secca, dispensita, squamosa e addirittura in alcuni casi rari a perdere la pelle. Tutto ciò fa sì che l'epidermite sia vulnerabile ad ogni tipo di infezione, si possa staccare, ripeto, ed è una situazione molto dolorosa, tanto che a volte la bimba non è capace di camminare e non può andare a scuola. Mamma, Melanie però sa cosa prova sua figlia e ha riposto tutte le sue speranze in un bagno terapeutico che costa pensare 10.000 euro e che può ridurre in modo sensibile il suo dolore. Perciò ha attuato una raccolta di fondi che in linguaggio tecnico viene chiamata crowdfunding. Il trattamento di Rebecca è formato da un bagno d'ommore due volte al giorno di più c'è necessario, seguito da un'applicazione di creme tutte le volte di cui ha bisogno. La sua pelle è priva di umidità e di elasticità vitale. Ed è sempre secca e strepolare, insomma, una vita terribile. Vi ringrazio per l'ascolto e il video di oggi.